Allegri, Keanu ci ha messo in i ragazzi meritano i complimenti. Nel primo tempo potevamo fare meglio ha detto l'allenatore della Juve Max Allegri dopo il K. O con la Roma, così come nelle occasioni che abbiamo creato e sull'espulsione. Keanu ha sbagliato, aveva subito fallo, e si è fatto espellere. Forse era nervoso perché non aveva giocato. Si è scusato, ma ha messo in difficoltà la squadra. In nove minuti avrebbe potuto essere decisivo. Ora però non dobbiamo cadere in frustrazione, i ragazzi meritano i complimenti per quello che stanno facendo. Sapevamo delle difficoltà, la Roma comunque è una squadra scorbutica, che non concede. Già aver costruito queste occasioni contro la Roma non è cosa semplice. Nel primo tempo potevamo fare qualcosa in più. Ma loro hanno corso molto, tanti loro giocatori hanno finito la partita con i crampi. In difficoltà. Alla fine del primo tempo già stavano mollando tra le linee, con i centrocampisti. Poi purtroppo abbiamo preso questo gol dove potevamo difendere meglio. Già sul rinvio potevamo gestire la palla meglio. Poi il calcio è questo, non riesci a far gol ed esci sconfitto. Anche alla fine abbiamo avuto una bella occasione con Danilo. Poi purtroppo c'è stata anche un'espulsione dopo 40 secondi. Dobbiamo essere sireni, anche dopo un pareggio sembra che il mondo ti crolli addosso. Ma non è così. Dobbiamo continuare a lavorare, ciò che succederà non dipenderà dal campo. Dobbiamo arrivare tra le prime quattro e momentaneamente siamo secondi, abbiamo fatto 50 punti. Così Max Allegri, tecnico della Juventus, ad Azzn, dopo il KO contro la Roma. Dopo il gollo Catelli si alzava molto. Mentre Rabiot si abbassava. Ci voleva più ordine, mancavano 35 minuti e potevamo ribaltare la partita. Abbiamo avuto buone occasioni, ma il calcio è questo e forse stasera doveva andare così. La Roma sta facendo un grande campionato, non prende gol in casa. Abbiamo approcciato bene nel secondo tempo. Ma potevamo fare meglio in alcune situazioni. Abbiamo preso un gol in cui è stato bravo Mancini. Ma dovevamo accorciare prima, ha aggiunto. Grazie. Grazie. Grazie.